Quella dei governatori è stata una lecita richiesta, quindi non un'imposizione. Io penso che è importante, c'è una preoccupazione diffusa, quindi non un allarmismo come qualcuno, però una preoccupazione da parte della gente. La comunità cinese, per prima, proprio leggevo stamattina un comunicato della comunità cinese, ha deciso di tenere i bambini a casa che arrivano dalla Cina per almeno 15 giorni, quindi mi pare che sia stata una richiesta di buon senso da parte dei governatori, anche perché una pandemia, un'epidemia, ormai è estremamente chiaro, si contiene solamente con l'isolamento. E quindi questa paura c'è da parte delle persone e i governatori, secondo me, hanno fatto assolutamente bene. Nessuna misura, ho sentito in questi giorni, il razzismo nei confronti dei cinesi. Intanto il provvedimento che avevano chiesto i governatori era il confronto di tutti i cittadini, tutti i cittadini provenienti dalla Cina. E comunque abbiamo capito che l'unico sistema, come dicevo prima, è quello di questo isolamento di almeno 15 giorni, che deve essere assolutamente effettuato. Facciamo così, perché in comprensione a Nobili va bene?